Tutti, le donne conflittuale madre si innamorano sempre dell'uomo sbagliato. In questo video voglio spiegarti perché le donne che hanno conflitti con la mamma tendono sempre a innamorarsi dell'uomo sbagliato. Prima di affrontare questo tema però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare, diciamo, con gli abbonamenti base a... no, potrai, diciamo, farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise e mirate. Adesso veniamo alle mamme, alle donne conflittuali madre e perché scelgono sempre, vivono sempre degli amori sbagliati, scelgono sempre l'uomo sbagliato. Allora, quali sono intanto le donne conflittuali madre? Beh, sono quelli che hanno avuto una madre rompipalle, una madre diversa da quello che avrebbe voluto avere, una madre che li ha tartassati, una mamma soffocante, una mamma incapace di vivere la sua vita e cercando di vivere la sua vita rispetto alla figlia, cioè andando a mettere il becco, mettere il naso nella vita della figlia. Questo, purtroppo, quando le cose in amore per i figli e le figlie non vanno bene, la mamma è sempre la mamma, diciamo, nel bene e nel male. Diciamo questo, che la mamma è sempre la mamma. Questo tipo di mamme sono nocive in ogni aspetto dell'esistenza della figlia, sia per la vita sociale, per la vita lavorativa, per la vita sentimentale, per tutto, perché la mamma soffocante è iperprotettiva. Questo deve tenere presente. Tutte le donne che hanno avuto una madre soffocante, una madre iperprotettiva, scelgono sempre l'uomo sbagliato. Le donne che hanno avuto una madre soffocante, una madre iperprotettiva, perché questa madre è sempre presente, è ansiosa, è sempre pronta a difendere la sua bambina dai pericoli, quando è piccola, quindi non le impedisce di crescere, le impedisce di vivere, diciamo, in modo autonomo la sua vita. L'accompagna a scuola fino a 18 anni, per dire, la segue fin dentro la classe, nell'elementare, le toglie il cappotto, ignora la maestra, diciamo. Ecco, quindi, quando è a casa, la controlla, le dà il cibo, decide cosa deve mangiare, decide cosa deve fare, decide che sport deve fare, vede pericoli e rischi ovunque, dà uno starnuto in più e subito la porta dal pediatra, per dire, quindi è costantemente addosso alla bambina. Spesso questo anche accade quando una donna ha poi una figlia magari in età avanzata, e questo succede sempre, succede sempre abbastanza spesso. Quindi poi la bambina cresce, diciamo, si ritrova un corpo da donna, ma è ancora, diciamo, protetta. Magari si è laureata, magari nel frattempo si è laureata, ma è ancora mamma dipendente. E allora, quando si è laureata, questa mamma soffocante, beh, inizia a proiettare l'esigenza di diventare nonna, inizia a proiettare l'esigenza di diventare nonna, e allora vuole che la figlia si sistemi. Vuole che la figlia si sistemi, assolutamente, va alla ricerca, diciamo, di tutte le modalità manipolative di questo mondo per far sì che la figlia la renda nonna, che la figlia procree, che la figlia si dia da fare. Ovviamente questa figlia sarà, diciamo, impreparata completamente a cercare un maschio, a cercare una situazione che le possa piacere. Allora, normalmente che succede? Che il primo marito, tra virgolette, se lo sceglie, lo sceglie la mamma fondamentalmente. E' comunque uno che piace la mamma. Lei normalmente sforna, si sposa e sforna, e poi però si ritrova con un uomo che non ama, e alla lunga, diciamo, questo diventa un problema. La mamma soffocante, diciamo, gli ha impedito di ignorare i propri desideri, di perseguire i suoi gusti. Ecco, quindi che la figlia pensa, talvolta, di a un certo punto sbottare e ribellarsi a questa situazione. Allora, lascerà il marito, una volta raggiunta la saturazione, e inizierà a quel punto lì a trovarsi tutta un'altra serie di uomini che saranno esattamente l'opposto a quelli voluti dalla madre. Ma anche l'opposto non andrà bene, perché andrà a cercarsi tutti i figli di mignotta che le genereranno grandi sofferenze. Ecco, quindi che tutta la sua vita ruota attorno alla figura materna. Ecco, quindi se tu vuoi uscire fuori da questo schema, purtroppo, per fortuna, devi imparare a perdonare tua madre. Devi imparare a perdonare tua madre e far sì che questa madre possa, anche come forma pensiero, come grego, uscire fuori dalla tua mente. Perché altrimenti, fin tanto che il pensiero materno è dentro la tua mente, tu non riuscirai a fare nulla di positivo. Se, tra parentesi, non sei riuscito a avere figli, tua madre ti avrà considerato come una figlia del genere pure. Quindi ci saranno stati assi di questo genere. Quindi è veramente importante riuscire a perdonare pensando che tua madre è come una donna, come tante altre, che non è che per il fatto di diventare madre ti rende superman e quindi questo fa sì che tu abbia comunque avuto delle situazioni abbastanza negative, abbastanza nefaste. Questo può succedere, può capitare, ma questo deve darti l'energia per superare questi blocchi, queste ansie e venire fuori da situazioni di questo genere. Quindi nel momento in cui riuscirai a perdonare, prima anche a renderti conto della situazione, ma poi di fatto a perdonarlo. Perdonarla non significa che devi stare lì attaccata a lei. perdona e lascia andare. Thank you and goodbye. E questo è l'insegnamento, l'hai ricevuto, arrivederci e grazie. Perché non è che uno, un genitore, perché il genitore deve essere, diciamo, deve essere attappiccicato. Di fatto una persona adulta, a un certo punto, puoi prendere tranquillamente la tua strada, ma devi farlo con il perdono nel cuore. Perdono. Perché se non hai un perdono nel cuore non riesci ad ottenere di fatto nessun risultato positivo nella tua vita, perché resterai bloccata, resterai in questo escamotage che non ti permetterà di trovare niente di buono. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e ti ricordo che sul canale ti puoi anche abbonare. Abbonandoti potrai farmi delle domande alle quali io risponderò in apposite live e avrai appunto delle risposte. Ciao a tutti!